Foam roller quadricipite. Noto a tutti per la sua dimensione, è costituito da quattro capi, retto femorale, vasto mediale, vasto intermedio e vasto laterale, per il quale abbiamo un trattamento apposito. In quanto può risultare particolarmente dolente, per alcuni vi propongo uno scalaggio, eseguito contro il muro. Lo si può fare anche sullo stipite di una porta, in modo tale che la gamba controlaterale sia leggermente anteriore rispetto a quella da trattare. Vediamo come trattarlo nella maniera tradizionale. Posizioniamo il roll a terra e ci sdraiamo proni con il quadricipite sopra di esso. La gamba controlaterale sarà piegata e abdotta così da fornirci supporto e movimento. Le braccia saranno anteriori, poste sotto le spalle. Il movimento ci viene fornito dalla combinazione della spinta in posteriorità di braccia e gamba, seguita dalla trazione di braccia e spinta in anteriorità di gamba. Grazie. 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 Grazie.